La cosa strana è stata che la mia connessione tra l'arte che ho sempre percepito e sempre curato o comunque sia immaginato nel mio proprio bagaglio e comunque immaginario di quello che era la mia attitudine è sempre stato abbastanza limitato a un discorso artistico io ho capito diciamo abbastanza tardi e fortunatamente presto che il solo disegno quindi la sola illustrazione o magari quello che può essere il disegno come pittura o fine a se stesso mi poteva dare ma non mi avrebbe effettivamente dato quello di cui ci avevo bisogno cioè il discorso del poter esattamente strutturarmi una carriera di vita una carriera sulla quale effettivamente tutto ritornasse nel discorso dell'arte come arte non solo per la bellezza ma arte per la vendibilità cioè il discorso è quello che tanto bene o male puoi essere bravo quanto vuoi ma se un discorso un concetto che sia di natura artistica esatto non basta serve quell'anello di congiunzione tra le parti il discorso del cercare di arrivare ad un giusto compromesso tra la bellezza e quindi ciò che ti spinge a fare quello che fai e il modo per venderlo e per far capire che quella cosa là non è solo bella ma è anche magari necessaria oppure qua chiaramente tutto quanto dipende da quello che parliamo adesso sto facendo un certo dal contesto esatto sto facendo diciamo un cappello abbastanza generale quella chiave che ti permette anche di raccontare quello che tu hai disegnato quello che hai creato e che possa essere percepita e possa essere fruibile da più gente possibile e soprattutto anche non solo ti aggiungo agli addetti ai lavori tra virgolette perché magari è un campo talmente tanto ampio quello della grafica per cui puoi anche immetterti a fare lavori che mai capisci solo te che sei professionista o i tuoi colleghi che capito non basterebbe comunque non ne capisco nulla o comunque voglio entrarci non riesco a percepire determinate cose mentre come dicevi te la chiave è quella di rendere fruibile a tutti esatto il tuo prodotto e la tua opera perché alla fine anche considero opera d'arte anche l'opera digitale tra virgolette sì io le chiamo artwork fondamentalmente magari anche in termini che perdonate se ci sarà qualcuno all'ascolto un pochino più su livelli alti ma le chiamo artwork perché fondamentalmente io ti ripeto non mi vedo come un semplice designer cioè a me se una persona mi dice a te sei un grafico sì cioè a livello d'attestato a livello di titoli di studio sono un grafico un grafico pubblicitario poi a livello di quello che mi ha sempre spinto quello che mi muove tutt'oggi e quello che mi muoverà spero per sempre è il discorso del voler trasmettere anche che sia anche con un logo perché comunque sia per me il logo non è semplicemente un logo perché deve essere un ideogramma messo lì e deve rappresentare l'azienda e basta cioè deve rappresentare tutta una serie di verità di emozioni comunque tutto quello che ti permette poi di capire effettivamente a che cosa serviva quel logo lì e perché l'hai fatto in quella maniera là cioè non è solo la scelta del mettere un cerchio all'esterno o di una traccia un pochino più larga parlando in termini abbastanza terra terra ma è proprio il perché hai fatto questo perché c'è un cerchio cosa significa quel cerchio e tutti i concetti che possano essere collegati anche a una sola figura sì e proprio per questo mi piace pensare di non essere semplicemente o così tecnicamente un grafico perché poi magari esistono grafici che magari hanno studiato molto più di me e che per quell'aspetto diciamo un pochino più industriale oppure più tecnico che possa essere comunque il discorso ne sanno molto di più di me magari capito poi dopo il discorso dell'estero il discorso della creatività è un lato che a me piace cioè sul quale mi piace fa molto peso perché comunque anche quando magari tratto che diciamo tu alla fine comunque già sai che l'80% del mercato mio è praticamente occupato dalla cover art cover art in termini musicali quindi tutto quello che a me mi trasmette il brano stesso durante l'ascolto durante magari la lettura del testo eccetera poi mi spinge a creare ad ipotizzare a teorizzare progettare e finalizzare tutto quello che è un discorso di un processo creativo che magari era la base ancora prima di sapere esatto cosa effettivamente la canzone a quale genere effettivamente la canzone appartenesse però magari basandomi sul testo capendo le vibe capendo tutto il mood che c'è la base e i concetti che magari l'artista stesso voleva mantenere voleva trasmettere riesco o cerco quasi sempre riesco a trovare una situazione abbastanza ottimale tra le parti tra il mio senso artistico e tecnico e l'idea del cliente quasi proprio un prodotto complementare al brano diciamo sì più o meno allora in realtà anche qui ci sarebbe da fare una piccola grassificazione perché non è sempre così cioè nell'ambito magari come nella musica piuttosto che nella grafica piuttosto che nella moda tutto più o meno dipende un pochino sempre da effettivamente quello che il cliente ti chiede perché tu puoi essere un bravissimo illustratore ma se quel cliente ti ha chiesto un'illustrazione è fatta in quella maniera lì magari perché c'erano tutte le giuste motivazioni e ragioni per poterla fare in quella maniera lì allora la cosa cambia però il discorso è che più o meno quasi sempre io tendo a tenere bene a mente tutte quelle che sono diciamo le parole chiave l'immaginario che ti ricrea quella frase il perché ha detto quella frase lì e magari anche l'emozione se c'è la possibilità addirittura di parlare direttamente con l'artista in maniera molto come ti posso dire amichevole esatto infatti quello che ti volevo chiedere che poi mi è venuto in mente adesso mentre ce lo raccontavi ovviamente sarà contestuale e soggettiva dipendentemente dall'artista c'è molta comunicazione tra l'artista che propone il brano e magari te che sei addetto alla creazione della copertina come della copertina del disco del singolo quello che è ti dirò dipende dipende tanto dall'artista stesso cioè perché comunque non si può in questo frangente non possiamo classificare l'artista perché è come il cliente quindi non sei mai chi ti aspetta fondamentalmente dall'altra parte o chi è davvero quella persona lì però in genere quando mi capita quando ho la fortuna o anche addirittura proprio la necessità di dover conoscere un artista qualora magari è un artista un pochino più affermato un po' a livelli un pochino più alti insomma dove tu non parli tu medi tramite il manager suo che ti dice quella che era la sua idea a parole sue che comunque sia se io dico una cosa a te e te la ridici a lui in automatico già una parola barra due cambiano e questo ti fa capire più o meno quella che è la realtà che ci sta dietro però nel momento in cui addirittura mi sono capitate anche situazioni dove magari dovevo parlare col manager e siccome ero arrivato al momento in cui guarda non riesco a capire quello che mi vuoi dire o mi parli cioè o mi fai parlare direttamente con l'artista oppure lasciamo perdere perché non è che comunque sia posto sta a perdere tutta una settimana per un progetto singolo capito però ecco il discorso è questo fondamentalmente sempre lì ok 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 e un'altra cosa che mi interessava ci sono tante cose che ci interessava chiederti piano piano le snoccioliamo tutte e parlavamo settimana scorsa quando ci siamo beccati per organizzare questa intervista di giornate storte giornate in cui uno si sveglia e non sa che cazzo fare sta pieno di bad vibes di tristezza e mi è venuto in mente in ambito musicale un po' la figura di Tenko che diceva che quando lui era triste era quello il momento in cui si metteva a far ricerca e scriveva le canzoni e l'ho rivisto molto in quello che mi hai detto tu perché tu mi avevi detto quando io mi sveglio che sto bello triste bello depresso sono quelli giorni in cui prendo e mi metto a fare ricerca a leggere come affronti questo processo di ricerca che poi riversi all'interno delle tue opere dei tuoi lavori questa è la domanda da un milione di dollari nel senso come lo affronto lo affronto nella maniera che penso nel momento un pochino più adatta nel senso che magari se mi sveglio che è successo un qualcosa quindi dipende sempre effettivamente dalla situazione dall'atmosfera che provo nel momento in cui dico ok perché ho pensato a questa cosa qua piuttosto che a un'altra però il discorso è quello che dicevamo prima del vivere male per scrivere bene cioè più o meno il cappello è quello lì perché nel momento in cui devo creare un qualcosa di puramente artistico la necessità la chiamo necessità proprio perché è un qualcosa che non può essere di cui non si può fare a meno cioè il sentire anche qui ci sarebbe da collegare un altro discorso per far capire meglio l'aspetto diciamo colleghiamolo colleghiamolo sì che sarebbe il discorso della mia tra virgolette diciamo lo chiamiamolo slogan o motto ma che poi in realtà non è nulla di questo che sarebbe fear makes you alive che è il discorso proprio della paura che ti rende vivo cioè è che mi sono sempre rivisto o quantomeno mi sono sempre sentito molto nel nella posizione di vivere o quantomeno capire effettivamente che cosa fosse la vita o che cosa mi prospettasse la vita nel momento in cui stavo emotivamente di merda si può dire di merda ok ok di merda raga stavo di merda quindi in quei momenti lì magari a livello proprio creativo o personale oppure magari che un cliente mi diceva guarda io ho sto lavoro qua però mi piacerebbe che tu andassi di tuo flusso cioè fai quello che ti pare ascoltati il pezzo fai quello che vuoi io mi piace quello che fai insomma ma sono sicurissimo che farai quello che voglio allora in quella maniera lì mi sveglio che magari sto ragionando su un episodio che ho visto un ricordo che magari mi ritorna in mente un flashback che si è colpito particolarmente esatto e da lì c'è tutto diciamo la svolta cioè il cambio completamente di impatto che c'è nel processo creativo cioè lì non è tanto devo pensare a quello che devo fare ma è devo fare quello che sto pensando come lo riesco a fare effettivamente non c'è mai un modo tecnico perché anche qui diciamo riscindiamo sempre dal discorso del tecnicità o comunque sia proprio aspetto tecnico puro e e fino a se stesso e torniamo al discorso più creativo cioè che tu una cosa la puoi fare come ti pare cioè non esiste un metodo per poter fare questo poi magari se sicuramente conoscerete programmi adobe eccetera ci sono migliaia milioni di tipologie e di tecniche per fare le stesse identiche cose in maniera completamente diversa quindi dopo come ti sei grato tu il tuo pacchetto il tuo storico il tuo know-how lo fai tu però ecco non c'è mai un modo però ecco se capita che mi trovo nella situazione dove è successo qualcosa che mi ha veramente scosso che possa essere sia in senso tanto negativo e che quindi come posso dire che coinvolga me in prima persona e che quindi è successo una cosa direttamente a me oppure che abbia semplicemente visto o appunto come dicevo un ricordo magari un qualcosa che mi ritorna in mente e mi fa pensare a un qualsiasi altro filologico e poi non c'è una connessione diretta cioè non c'è perché ti sei ricordato che da bambino tu non ha dato non lo sappiamo però te lo sei ricordato ed è giusto in quel momento prendere e assorbire tutto quello che ti ha dato quella sensazione e riversarla ti ho fatto questa domanda perché voglio proprio far percepire a chi ascolta quanto nell'ambito grafica sia importante la componente umana che non è cioè il grafico non è quello che sa usare i programmi che sa fare command z command x eccetera 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 o che sa usare le sfumature cosa che io ancora non so fare per esempio però è quello il grafico è quello che come il cantautore o come ogni tipologia di artista assorbe ciò che può assorbire ciò che sente e lo riversa in qualche modo nella sua produzione la differenza tra il tecnico e un qualsiasi artista fondamentalmente esatto quello che magari sta dietro che muove i fili per poter far sì che l'artista effettivamente abbia un buon risultato un buon risultato vai Andrea so che anche te ci avevi parecchie domande poi Andrea insieme a me è quello che noi curiamo la grafica ha detto il progetto e Andrea in particolare è proprio il più perito il più perito il graphic content ok allora due due espermi mi interessavano particolarmente la prima è relativa proprio al percorso che ti ha portato qui e l'altra relativa proprio ad altri fattori più creativi quindi ritornando proprio sulla tua storia nel corso la moderata vita come hai fatto a far sì che le tue scelte ti portassero poi in questa direzione quindi cioè perché al giorno d'oggi persone che si vendono come grafici o come art director come diciamo sì 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 ne sono tantissime come per tutto tantissimi assolutamente e crescono esponenzialmente però poi arriva il momento della selezione naturale certo e c'è chi la supera e tu l'hai superata diciamo sto cercando di superarla quindi cos'è che pensi che ti abbia portato effettivamente qui anche questa è un'altra bella domanda alla quale ti suro non saprei rispondere né oggi né tra una settimana se me la dovessi richiedere cerco di darti un più o meno leitmotiv del mio perché io dico che comunque sono partito come una persona che ha sempre vissuto all'interno di un discorso artistico non in prima persona perché comunque sia nessuno dei miei genitori o comunque sia parenti stretti cugini fratelli più grandi perché tra parenti sono fratello più grande io di un fratellino più piccolo di me che salutiamo che salutiamo ovviamente però ecco per il discorso che tutta questa influenza artistica torna a me perché mio nonno mi ha diciamo prima che insegnato a stare a tavola a tenere in mano un pennarello una matita o cancellare che sia quindi ho sempre disegnato da quanto da quanta che mi che mi ricordi e c'è sempre stata questa propensione proprio necessità la chiamo necessità perché anche qui è un qualcosa che va oltre la tua semplice voglia cioè non è semplicemente il voglio disegnare perché ho voglia di disegnare o quantomeno magari ci sono state e ci sono e ci saranno mi auguro per tantissimi altri anni questi momenti dove dico ho voglia di disegnare ma momenti in cui come dicevamo prima riagganciandoci al discorso della necessità vera e propria cioè del lo faccio perché devo tante volte non basta saper parlare bene non basta avere bellissime persone di fianco perché non mi è mai mancato nulla di tutto questo ma perché tante volte non basta tutto questo perché tutto quello che magari hai da da esternari da esorcizzari che vorresti far capire le persone con le parole non arriveresti mai lì dove magari con un'immagine riesci a creare quell'impatto che ti dica cacchio non me lo sto immaginando fondamentalmente me l'ho visto l'ho visto è quello poi che quella immagine ti ritorni in mente che ti crei poi un flusso di pensieri al di sopra gran cosa per me sarebbe sempre il massimo del mio raggiungimento a livello proprio come artista quando una persona apprezza e capisce quello che fai perché apprezzare basta sì sono contento che ti piace ma se poi alla fine non capisci effettivamente perché lo faccio perché questo perché quest'altro è tutte parole al vento però ecco io ci sono arrivato sempre con il discorso della mia della mia atmosfera che mi ha circondato del fatto che mia madre ha iniziato la sua carriera tra virgolette scolastica nel liceo artistico di macerata quindi comunque sia anche lei diciamo più pittrice e disegnatrice piuttosto che magari illustratrice come illustratore come me però diciamo che apprezzava sì esattamente sì diciamo che l'interesse nei miei confronti è sempre stato quello di motivarmi cioè nel senso lo sai fare e fallo però è stato sempre anche diciamo basato sulla realtà di quella che è la nostra regione di quella che è la nostra realtà politica e sociale e del fatto che bene o male dalle parti nostre non è semplice arrivare a vivere di arte sì perché magari come un pittore che possa essere bravissimo che comunque sia un grandissimo artista non arriva a fine mese per poter fare dopo che magari ha fatto tutto quello che doveva fare e non ci arrivi comunque quindi serve capito quell'upgrade io quell'upgrade ce l'ho avuto in terzo superiore è abbastanza precocemente sì precocemente ma io lo vedo già come una cosa in ritardo nel senso sì perché questa cosa la sentivo cioè il mio primo come ti posso dire punto di arrivo o meglio punto nel quale ho detto devo fare qualcosa con l'arte è stato lì perché ho detto ok sono obbligato a dover cambiare scuola per forza di cose non apriamo parentesi non le chiudiamo nemmeno ho cambiato scuola e ho detto dove vado fondamentalmente dovevo averci tutto un discorso pronto per poter dire a mia madre guarda cambio scuola perché comunque sei in terzo superiore già diciamo che sei abbastanza entrato nella scuola la conosci e dire guarda cambio per questo e questo e questo c'è stata la immane enorme fortuna che nel mio ipotizzare e nel mio tra virgolette fingere che mamma guarda tranquilla andrà tutto bene vado a fare questo perché so che farò questo alla fine è andata così cioè nel senso che culo però è andata così perché bene o male mi sono catapultato nella situazione del grafico senza sapere effettivamente a cosa andassi incontro perché arte è arte il grafico è grafico come ripeto c'è più tecnica c'è molta più proprio un'altra tipologia di vista un altro approccio al lavoro un altro approccio al lavoro e un altro proprio metodo progettuale sì tutto quanto sì e quindi niente ho cominciato i miei studi a ragioneria qua su A Civita una volta e lì ho capito che effettivamente saper disegnare se con una coscienza abbastanza matura poteva essere anche riproposto esatto per la vendita per poter dire cacchio effettivamente questa cosa è bella ma come faccio a farla a farla a piacere o anzi meglio come faccio a farla a vendere perché a farla a piacere ok a prezzi non mi pago le bollette non mi pago il pane con l'apprezzamento mi pago il pane con i likes esatto e quindi è stato quello il discorso che il giorno per giorno il dover fare degli esami integrativi il dover per forza di cose e trovarmi di fronte al devi studiare grafica perché sennò qua non ti ammettono e se non ti ammettono tu finisci di fare scuola allora lì mi sono trovato anche un pochino alle strette ma cioè nel senso mi sono sentito anche un pochino capito o la faccio bene o la faccio bene ride or die insomma che è quello che poi alla fine nella vita ti fa fare i grandi salti sì e poi da lì infatti ho cominciato a fare questi piccoli salti iniziali perché ho detto sai cacchio che mi piace cioè non pensavo cioè io cambiavo scuola perché dico è più semplice me la sbroglio prima vado via prima è una cosa più artistica e un sacco di ignoranza che c'avevo all'epoca perché comunque sia stato quello il motivo principale che mi ha fatto di vai lì perché poi alla fine era la scuola esattamente di fianco alla scuola stessa quindi non dovevo cambiare niente per chi non conosce la ragioneria grafico è veramente a 600 metri più o meno no è lo stesso complesso è un H e quindi così e da lì giorno per giorno appunto con questi piccoli saltelli ho cominciato a dire cacchio fammi un po' vedere come fare questo ma come posso fare questo poi chiedendo al professore trovandomi una valanga di corsi specifici cioè specifici per quelle che erano magari la mia necessità nel momento che dovevo fare una tipologia di scritta volevo vedere come magari doveva essere ricreato uno stile piuttosto che un altro tutorial tutorial corsi facciamo uso anche onestica si e fatelo raga fatelo perché è l'università diciamo l'università gratuita ci stanno corsi che pagate ma ci stanno una valanga di corsi che sono completamente gratuiti e che creano tutte le vostre skills che comunque sono quelle che effettivamente vi faranno poi creare un qualcosa un immaginario che vi porterà un pochino sopra rispetto al classico grafico che ti fa la copertina per l'evento che bene o male ci deve essere perché il mercato lo richiede però comunque sia è bene anche aprire altri mercati che mi piace pensare dalle nostre parti non sanno mai stati toccati con mano perché comunque io ho conosciuto anche molti altri grafici molto più affermati delle mie zone chiaramente non faccio nomi e che magari anche anche loro allo stesso modo del come volevo approcciarmi io al mondo della cover art già loro magari avevano collaborato con artisti eccetera poi vai a sentire i mercati loro e dici cavolo che non posso vivere di cover art certo non so proprio tanto sicuro che non si possa vivere di cover art però è stato un bel processo cioè nel senso da lì poi chiaramente ok mi sono diplomato ho preso tutto il mio tempo che mi è servito per diplomarmi e da lì in poi dal momento in cui sono uscito ho cominciato un escalade di corsi su corsi con certificazioni chiaramente perché poi sì il tutorial ti dà skills ma ti serve anche l'attestato che ti dice tu sei un grafico ad opi poterli vendere poterli vendere nello studio da me il fatto che Francesco Ruoto ha partecipato a questo corso e è stato diciamo è passato con questa media questo è il progetto eccetera 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 comunque sia come se tu avessi un titolo che sia un diploma che sia una laurea un attestato quello che comunque sia attestato di un corso invece per quanto diciamo riguarda la questione più stilistica la questione stilistica è una questione che sto affrontando tutto oggi quindi ritieni di avere uno stile tuo maturato in fase di maturazione no assolutamente penso che stia muovendomi non so se bene o male ancora perché non ho effettivamente la la materialità per poterlo accertare o no però mi sto muovendo in un mondo che sto cercando di far sempre più mio cioè mi sto anche tra virgolette contornando di persone fortunatamente che la vedono nella maniera più simile tra virgolette alla mia anche in ambiti diversi perché ovviamente serve il il discorso del metodo di paragone perché comunque sia tu puoi essere un genio ma se sei solo tu a dir che sei un genio capito esattamente poi magari dopo 50 anni che sei morto diventi un genio davvero sei stato sfortunatissimo però il discorso è questo quindi a livello stilistico ti posso dire che da quando sì da quant'è che mi ricordi che ho cominciato a vendere tra virgolette la mia arte ho iniziato anche diciamo inconsciamente a strutturare una tipologia di stile qualcosa che facesse capire che quel prodotto era tuo esatto non lo riconosco ancora ti dico non riesco ancora a vedere la stessa identica impronta che poi magari mi fa anche molto piacere quando la gente mi dice oh cacchio ho visto una copertina tua ero sicuro che era la tua e a me queste cose mi danno sempre la giusta carica e mi dicono ok stai muovendoti nella direzione giusta nella strada giusta esatto poi stai muovendoti verso la strada giusta la tua strada giusta ce l'hai ce ne sarà parecchia ancora da fare però sì diciamo che a livello di questo è sempre che connesso con il discorso del vivere male cioè non vivere male perché io vivo di merda o perché faccio una vita io faccio una vita tranquillissima il discorso è che però appunto vedo un po' il tutto con un occhio leggermente diverso in base a quello che magari è l'emozione mia a confronto ecco una sensibilità magari anche più accentuata sì e c'è un'altra domanda allora parlando con un mio amico che fa fa il designer ma per interi quindi campo totalmente diverso dal tuo mi diceva che nel 2020 sta iniziando un po' questa brutta tendenza di far diventare il designer o nel tuo caso il grafico più un tecnico che un creativo perché arrivano i clienti e ti dicono voglio questo questo e questo così e così tu lo devi solo fare perché non sono in grado di usare il computer è una cosa che vedi nel tuo campo è un fenomeno che sta iniziando a dilagare anche tra tra i grafici magari più come te che fa cover art artwork quindi roba più digitale e quindi è una roba che esiste solo per chi fa interni oppure è un fenomeno che effettivamente esiste io penso che sia un fenomeno che esista in qualsiasi settore cioè se vai dal cuoco gli chiedi se ti è mai capitato una persona del genere penso ti dica sì sì perché tanto che è inevitabile la fine del discorso della diversità delle persone che fortunatamente sfortunatamente c'è purtroppo con me è abbastanza chiusa come cosa perché sono arrivato anche nel momento in cui sono io che scelgo con chi lavorare nel senso non è che io devo stare a delle mosinarie tra virgolette collaborazioni lavorazioni eccetera anzi c'è diciamo una sovrarichiesta della mia arte rispetto a quella che effettivamente posso produrre perché comunque ce ne ho due le mani sono da solo perché la gente che magari ti viene a chiedere una copertina viene a chiedere a te non posso mandarla ad un altro grafico per quanto mi possa aiutare magari anche un discorso di un possibile apprendista nel futuro astacista eccetera che mi possa dare una mano magari in termini più tecnici però ecco io tendo sempre fortunatamente in quest'ultimo periodo perché chiaramente negli anni passati mi sono trovato in situazioni dove se vuoi prenderti sto stipendio lo fai così altrimenti te la vedi tu quindi sì mi ci sono trovato in situazioni come queste e ti posso dire che fondamentalmente il mio il mio metodo di comportarmi di conseguenza è stato quello di adacciarmi cioè di adattarmi alla situazione cercare di andare più verso il cliente piuttosto che verso il mio ego artistico chiuderti e dire no lo faccio come cazzo mi pare che è la cosa più brutta che esiste perché quando tu fai una cosa che ti senti che doveva essere così e che quindi per la quale nutri un sacco di aspettativa un sacco di considerazione e poi ti viene smontata da una persona che non è né un professionista né un critico che comunque può dirti effettivamente no guarda sta roba non è non è proponibile sta roba non è vendibile però che fai cioè fondamentalmente è sempre quello il discorso ti trovi nella situazione in cui devi farlo e se lo devi fare stai zitto e ti rilaccio in quel momento oggi fortunatamente non lo faccio più cioè se tu mi dici guarda a me mi serve un logo fatto così fattelo cioè a me non mi interessa nel senso voglio dire poi se tu mi dici guarda io ho un'azienda ho un brand ho un artista ho tutto quello che ti pare mi dici voglio lasciarti la tua direzione artistica fai quello che vuoi vai a coscienza artistica tua e lì ho un po' il fuoco bomba in piscina sì è un full immersion è esattamente quello che cerco sempre e cercherò sempre di fare della mia della mia arte figata io c'ho un'ultima curiosità poi ci proiettiamo verso il futuro abbiamo parlato di passato di presente c'ho un'ultima cosa da chiedere ricollegandoci un po' al discorso dello studio e a me Andrea come ti dicevo prima ci interessa particolarmente perché io per esempio che faccio le copertine con lui ho imparato tutto grazie a lui e lui poi fa tutto il comparto video e monterà il video fra la color di questa questa intervista e la faremo uscire il peso è grande il peso che cade sulle spalle è molto grande anche perché c'hai un occhio espertissimo questo giro che ti giudica ma già ho visto le altre ho visto le altre e mi sono piaciute un sacco molto pulito molto sì sì mi piace pulito naturale grazie questo no no pare una cavolata ma no ma pulito ci sta no sono contenti ti dico perché siamo amatori cioè nel senso noi tutto quello che abbiamo imparato io specialmente l'ho imparato da lui lui l'ha imparato dai corsi la domanda che ti volevo fare è secondo te per approcciare questo mondo è necessario un titolo di studi oppure tanto fa il comparto creativo e il comparto emotivo e come poi uno riesce a volgerlo in quello che produce anche qua cioè sarei un completo stupido se ti dicessi che il titolo di studio non serve perché il titolo di studio serve serve laddove tu hai già un qualcosa dentro che cerca un po' di venire fuori che tu non sai né cos'è né perché c'è però è bene che ci sia perché comunque sia quello che ti muove no quindi il discorso del percorso di studio io non ho fatto l'università io non ho fatto l'università perché fondamentalmente non ho avuto la possibilità di farla nel senso che io avevo un'ambizione di andare a studiare in un'università dove non sono potuto andare perché comunque sia a livello economico non potevo sostenerla non potevo fare effettivamente tutto quello che avrei voluto fare in quel momento lì e allora mi sono trovato nella posizione di dire senti fra ok arte arte ma ancora qui con l'arte non ci mangi quindi bisogna che ti dai una bella sbrigata mi sono rimboccato le mani mi sono andato a fare il barista ho fatto l'imbianchino piano piano costruire tutto il castello mattone dopo mattone esatto quindi il titolo di studio secondo me di sé per sé proprio come attestato puoi anche farne a meno per quello che è la mia esperienza poi non è assolutamente né una legge né un consiglio infatti era un parere personale da qualcuno che comunque lavora con questo ambito però ecco ti dico il percorso di studio può renderti molto acevolato il tuo momento di cioè dove scopri effettivamente cos'era quella cosa che si muoveva dentro cioè capisci il discorso è quello lì se dopo ovviamente sei una persona anche abbastanza cosciente di quello che è magari la tua aspettativa nei confronti della vita che vorresti vederti davanti questo è un discorso poi c'è gente che grazie al titolo di studio riesce ad arrivare a toccare delle realtà con mano che magari neanche io riuscirò mai ad arrivare perché comunque se esci da un'università dove che ne so ti mettono già a collaborare o comunque sia a fare esatto con realtà solide accertate o comunque affermate o comunque conosciute e tu già lì c'hai magari una spinta in più che se sei intelligente e la sfrutti bene ti porta molto più avanti rispetto a quanto magari una persona come me deve fare e dovrà fare quindi penso che questo qua più o meno sia la mia risposta sia abbastanza fredda in merito i nostri momenti di incompetenza i miei nel particolare regalano un sacco di schede momenti comici ti vado a lui oh voglio fare sta cosa però come cazzo si fa che devo fare quindi voglio la disegno oppure tipo no prendi questo portalo lì e Andre che mi sopporta e mi supporta e ti supporta e mi supporta è il mio maestro insomma comunque proiettandoci verso il futuro quali sono le prossime mosse i prossimi passi allora anche qui ribadisco ci sarebbe una risposta che porterebbe via praticamente tutta una strada il discorso qual è che noi vogliamo fare tante cose cioè come farle esattamente ancora non è non è stato scritto però io di idee ne ho tante troppe forse troppe anche anzi senza forse troppe perché magari la sovrapproduzione di idee ti portano poi ad avere incertezze ripensamenti dove dici magari un progetto se l'avevi ragionato tra virgolette più singolarmente ti poteva portare ad avere un risultato maggiore e sta cosa esiste cioè sembra una cavolata una cazzata ma avere troppe cose da proporre troppe cose da proporti esatto poi ti porta la nulla esatto ti porta la confusione magari anche che comunque sia è una realtà però ecco come progetti che dei quali posso parlare perché magari sono più miei a livello proprio personale e professionale ti posso dire quello del magazine che ti accennavo anche l'altra volta quando stavamo parlando di questa cosa del magazine che appunto sarà un magazine basato sul cover art e ti dico solo questo perché comunque è una cosa che non esiste è una cosa che diciamo rimane ancora molto top secret ci sono un sacco di grafici che stanno già dentro il progetto che saluto voi sapete che sto parlando sto parlando con voi chiaramente sono tutti grafici che stanno a livelli altissimi qua in Italia che sono diciamo per ogni stile che porta ognuno di questi ragazzi sono secondo il mio modesto e umile parere professionale sono le migliori persone che sono riuscito a contattare e che mi hanno tra virgolette dato subito l'appoggio per questo progetto dicendomi guarda nero sta roba atomica facciamola vediamoci tra l'altro ci vedremo la settimana prossima questo sabato qua anzi no la settimana prossima questo sabato qua non è la settimana prossima e quindi niente ci vediamo là e dobbiamo parlare di questo progetto di questo magazine di cover art che voglio diciamo tirar su in maniera istituzionale e col seno del poi della nazionalità cioè del diventare una vera e propria non dico realtà a livello ministeriale che quindi non è che ti dice ah sei uscito su quel magazine e te sei uno dei grafici sei niente cioè ti rilasciamo tranquillamente la nostra umile verità però sì questo è uno dei bei progetti che sto portandomi dietro e che mi porterò in avanti un altro bel progetto è quello del merchandising merchandising che sarà praticamente una capsule in pratica disponibile solo in un certo punto che non si sa ancora dove sarà disponibile però lasciamo i puntini di domanda per informazioni contattatemi e niente questo merchandising che fondamentalmente comprenderà un po' tutto quello che è quello che mi piace cioè non solo il discorso diciamo di design illustrativo quindi artistico direttivo ma anche a livello proprio di moda di fashion perché comunque mi piace molto il mondo ho avuto la possibilità ribadisco di conoscere delle bellissime persone che mi hanno dato la bellissima proposta di un aiuto di una presenza che mi ha anche fatto muovere tra virgolette a livello mentale per ragionare su un'ipotesi di effettivamente possiamo farlo ok e quindi niente ci sarà questo bellissimo questo bellissimo progetto che comprenderà una filpa con una mia grafica chiaramente che ancora non è mai uscita nessuno ha visto nulla inedita ineditissima un poster autografato con tutta quanta la diciamo il concept di quello che è il progetto in sé e poi un piccolo gadget che ancora stiamo diciamo elaborando ed è in fase di progettazione perché non sappiamo dove buttarci se su una cosa piuttosto che un'altra comunque questi qua diciamo che sono i due macro progetti che ad oggi investono nella mia parte più privata ok perché a livello professionale ti direi album su album uscite che io non ti posso dire perché magari comunque sia ci sono dei criteri che vanno rispettati e tutto il resto ma che poi comunque sarebbero anche abbastanza noiosi perché cioè sono più cose lavorativamente parlando fine a se stesse che poi ok c'è sta arte anche lì è poco ma sicuro perché altrimenti non c'era il nome mio però questo è quanto questo è quanto bene figata è stato vi è piaciuto? assolutamente sì ti ringraziamo tantissimo io ringrazio voi e anche da parte di tutti gli altri della redazione ciao ragazzi qui dietro che stanno dietro e niente bomba ringraziamo ancora è stato un piacerone raga Thomas e Nicola per lo spazio per Corrido Iotto sempre al nostro fianco sempre al nostro che ci scaldano con il loro abbraccio e saranno al nostro fianco per molto e molto tempo esatto ok ti salutiamo ciao raga è stata una figata a presto grazie ciao